Lei non si è detto troppo ottimista forse rispetto a quello che hanno detto gli altri relatori di stamattina? No, non è vero, io sono ottimista sul futuro di questi ragazzi, altrimenti ne parlavo poco fa, non sarei qui a rappresentare una scuola di alta formazione e il problema, se ci fosse stato più tempo mi sarebbe piaciuto parlare dell'assenza di un convitato di pietra a questo incontro che è un editore, un rappresentante della categoria degli editori, perché senza l'editore, cioè senza qualcuno che vede nella buona informazione un elemento anche di guadagno, perché è giusto, che riconosca la giusta mercede a chi fa buona informazione e non che, come ho sentito qualche giorno fa, un sito di informazione online che paga un euro a pezzo. Ci vuole la figura di chi nel mondo dell'impresa vede un futuro per questa professione, altrimenti questi ragazzi se la devono costruire e sarà molto faticoso. La ringrazio.